Una serata positiva, sì, importante. Era vincere al di là della classifica, era importante fare risultato per noi, per la fiducia, per tutti i tifosi che sono arrivati fino a qui e quindi siamo molto contenti. Una trasferta difficile, sicuramente non mette ancora l'ipoteca sulla qualificazione, però vincere aiuta a vincere. Vincere aiuta sempre a vincere, come ho detto era importante più che altro per dare continuità, a prescindere dalla classifica, per cui è stata una prestazione positiva, sofferta un po', però siamo riusciti a portare a casa una bella vittoria, ce la godiamo e adesso pensiamo a Verona. Una Roma dinamica, una Roma che è a corso per i 90 minuti, condizioni climatiche diverse dal solito, sei soddisfatto della prestazione? Sì, soddisfatto perché comunque siamo stati anche molto aggressivi in fase rifensiva, attenti, abbiamo concesso non tantissimo e potevamo sfruttare qualche occasione in più, però come ho detto l'importante era venire qui e vincere. L'abbiamo fatto e quindi è una bella soddisfazione. Ludo Goretz e poi il derby, una settimana intensa? Sì, come tutte, da qua fino alla sosta, stiamo lavorando bene, ci faremo trovare pronti perché ci servono punti per tenerci agganciati alla classifica e poi soprattutto vincere con Ludo Goretz per assicurarci il passaggio del tour.